Miei pro di viaggiatori e camminatori è arrivato il momento di scegliere il materassino da usare sotto il nostro sacco a pelo. Se avete visto il video in cui parlo dei sacchi a pelo, se non l'avete fatto recuperatelo immediatamente cliccando qui sopra, saprete già che il sacco a pelo in cui andremo a dormire funziona trattenendo l'aria che noi andremo a riscaldare con il nostro corpo all'interno dell'imbottitura del sacco a pelo e questo ci farà stare caldi. Ma se noi con il peso del nostro corpo andiamo a schiacciare l'imbottitura del sacco a pelo, l'aria non c'è più e quindi il vostro sacco a pelo diventerà utile come uno scolapasta senza buchi. Ed è proprio per questo motivo che in determinate situazioni avremo la necessità di frapporre fra il sacco a pelo e il pavimento un bel materassino. Ma tu hai da quando guardo Mastrota che voglio vendere i materassi? Finalmente posso vendere i materassini! È frutto di anni di ricerca in laboratorio per farci dormire al meglio. Ora io potrei spiegarvi nel dettaglio tutti i tipi di materiali, le caratteristiche tecniche, i modelli e quant'altro dei materassini che ci sono in commercio, ma voi ci avete una vita, pure io ne ho una e non è che possiamo stare qua davanti a youtube tutta la giornata. Il tempo che recuperate è andata a fare una passeggiata. Quindi per fare prima elencheremo una serie di situazioni tipo e vi dirò che cosa dovete prendere. Punto. Poi non dire che non ti voglio bene, dai iscriviti al canale su, clicca qua sopra. Situazione 1. Siamo in piena estate e probabilmente piazzerete la tenda e dormirete sulla sabbia in riva al mare o su terreni molto molto regolari dove le temperature comunque durante la notte non scenderanno mai sotto i 15-14 gradi. Bene, in questo caso ragazzi, potete anche non metterlo il materassino. E lo so, molti puritani mi linceranno per questo, però io per esperienza ho dormito un sacco di notti calde senza materassino e sono ancora vivo. Se invece siete di quelle persone che hanno bisogno di comfort per dormire anche su terreni morbidi, magari di un minimo di regolarità, bene, allora portate con voi un qualsiasi materassino. Ragazzi, vanno bene pure quelli da yoga da 10 euro. Se sta bene a voi, sta bene per tutti. Scenario numero 2. Le temperature si fanno un po' più umidi, quindi possiamo pensare a temperature primaverili o autunnali oppure anche estive, ma dove andiamo a salire di altitudine. In questo caso abbiamo la necessità di portare con noi un materassino che sia un po' più serio. Se la vostra priorità è la leggerezza, è la comodità, quindi non volete perdere tempo quando dovete preparare la vostra zona notte, io vi consiglio in assoluto di prendere un materassino in schiuma con un coefficiente R che va dai 2 ai 3. Il coefficiente R indica la capacità termica del tappetino, cioè quanto riesce ad isolarvi dal terreno. Da 1 a 2 è praticamente inutile, da 2 a 3 e mezzo è un 3 stagioni, da 3 e mezzo a 5 abbiamo un tappetino invernale. Da 5 in su vi servirà soltanto se andrete a dormire nell'abbattitore prima di essere avvolti in un Uramaki. Perché vi consiglio il materassino in schiuma? Innanzitutto perché è molto comodo, cioè si apre in tre secondi e si chiude in tre secondi. È molto leggero, costa poco, quelli di una certa qualità arrivano ad avere dei coefficiente R ottimi con una spesa di 50 euro massimo e vi durano un'eternità. L'unico inconveniente è che sono un po' ingombranti, quindi se riuscite a trovare una posizione sullo zaino che non vi crea problemi, secondo me è il materassino giusto per primavera e autunno. Se invece dovete fare passaggi esposti, quindi avete dei passaggi pericolosi oppure la vostra priorità è il comfort, allora non dovete prendere un materassino in spugna, che è troppo ingombrante, ma optare per uno gonfiabile. Praticamente l'idea è la stessa di quello che usi al mare, solo che non ha la forma dell'unicorno ma ha la forma di un tappetino ed è fatto con dei materiali un po' più ricercati. Con il materassino gonfiabile andiamo a guadagnare sia di coefficiente R ma soprattutto di comodità, cioè è proprio come dormire su un materasso. I contro sono invece il prezzo che inizia a salire, ma soprattutto è che lo dovete gonfiare. Se non volete rischiare il collasso polmonare ogni sera vi consiglio di comprare un piccolo gonfiatore elettrico a pile, vi metto il link in descrizione. Oppure potreste gonfiarlo con l'antica tecnica Shaolin della busta, prendete una busta, la avvolgete intorno alla valvola e schiacciate l'aria dalla busta all'interno del materassino più e più volte, come se foste gli zambognari praticamente. L'altra cosa da non sottovalutare è che purtroppo i materassini gonfiabili possono forarsi, quindi vi dovete portare appresso pure il kit di riparazione perché se poi si fora dormite per terra. Terzo e ultimo scenario, come diceva Joe Snow, winter is coming. Se parliamo di temperature invernali ragazzi, non avete altra scelta, dovete prendere un materassino gonfiabile perché solo i materassini gonfiabili riescono ad arrivare a coefficienti R che sfiorano il 5, cosa che vi assicurerà di non finire come DiCaprio in Titanic. E con questo, ragazzi, abbiamo finito con i materassini. Ok, esistono anche i materassini autogonfianti. Perché non ve li ho nominati? Perché mi fanno cagare. Sono praticamente la via di mezzo fra quelli in schiuma e quelli gonfiabili. Si chiamano autogonfianti, ma non è vero che si gonfiano da soli, perché aprendo la valvola si gonfiano fino al 60%, poi comunque devi andare a soffiarci dentro. Ma la cosa che più mi innervosisce dei materassini autogonfianti è che per sgonfiarli devi aver fatto tipo un corso di osteopatia e digitopressione, se no ci metti tre ore per farlo ritornare nella forma compatta. Pesano sicuramente di più sia di quelli spugna che di quelli gonfiabili e costano anche abbastanza. Bene camminatori, spero sia tutto chiaro. Commentate pure sotto se avete domande e dubbi, fate sonni tranquilli durante le vostre escursioni e ricordate sempre, se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao!